benvenuti in un nuovo video oggi direttamente registrazione live perché ci siamo lo vedete siamo ormai in quota per le 55.000 sono con trama e abdel e si va vediamo perché sapete che la prima partita dopo la rake lo male per forza sconfitta partiamo già da sconfitti magari funziona con il gioco che incendi già due gol prima data a loro non erano riusciti a perdere nemmeno una germina e mai questo piace ok il beat va giù mi piace sembri in difficoltà otto gemme beat è andato mazza c'è anche il power up trama attenzione che professional che siamo sembrerebbe quasi il video di un ladder warrior mettiamo così incredibile l'abbiamo vita subito non ci avrei sperato tipo niente perché è già successo altre 20 volte attacco la rec invece ci avviciniamo e si vola ok vediamo questa come andrà ci abbiamo jesse rosa e sandy tipo mi sembra aver visto dobbiamo darti una mano con rosa che non ha messo i cespugli però la jesse ma c'era lenta ci dovresti fare c'era lenta c'era lenta da abbiamo un pochino più di controllo ma le gemme per ora le vediamo col binocolo no no ho sbagliato no con la speed eccola lì e non è la prima e la seconda no non ci credo c'era lì davanti dai che schifo eh jesse spina un attimo spina non passata ah no non ce l'hai un attimo eh questo potreste vederlo nel video e jesse questa è per te dg allora qua palesemente non ho visto che abbiamo max mid un cane attenzione raff contro raff il nostro raff aperto e ancora ma guarda come sta proprio lì in push in push anche uso e az 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 Vabbè non si ammessi malissimo Nemmeno bene ma nemmeno male Questo raft qua non ha ancora perso la lane da inizio partire Mamma mia ragazzi questa partita non avete sentito una parola ma che cacchio abbiamo vinto Mamma mia cosa abbiamo fatto sto sudando Porca miseria Ti recupero E allora sono a 949 e sono a 54.999 Finirà bene questa partita? Assolutamente no Però si va Vai L'ultima partita Speriamo che sia l'ultima di Sensi che vinciamo Compa strana Amz, Stu e Mortis Potrebbe andare bene come male Non sembrerebbero troppo performance Ok quelle gemme lì lascio stare E comunque ragazzi combo Raph e Lola effettivamente Tanta roba eh Tanta tanta roba Grazie Siamo a 6 Sto attento al Mortis E anche se sono potenziato Comunque Far la giocata Vabbè poverino Ok 10 gemme ce l'ho io Potrebbe essere quella partita Oh Daglie Al primo colpo eh Avete visto al video tutto uncut Tutte al primo colpo GG per noi Ho rotondato anche Lola 950 E eccole qua Detto questo Beh GG per noi Ora l'obiettivo in ladder È finito Basta Probabilmente mi concentrerò su PL Vi ricordo In fondo allo shop Attenzione che mi è scaduto anche a me Perché una volta a settimana va rinnovato Il codice player D Guarda ve lo rimetto anche direttamente nel video Un bel ecco Un bel commento E noi ci vediamo al prossimo video Bella raga